Ah ragazzi, ben ritrovati, buon sabato 29 aprile, credo che toccheremo l'ora di video giù di lì, la conferenza stampa non è stata curta, anzi è andata intorno ai 35-40 minuti e io ci ho messo 46 minuti, 46 minuti per ascoltarla e trascriverla perché dovevo continuare a mettere in pausa e tornare indietro perché solitamente le conferenze stampa di Allegri, 10, 12, 15 minuti, una roba del genere e riesco anche ad essere abbastanza veloce, sono abbastanza veloce a battere a tastiera, stavolta si era avvertito sin dall'inizio, c'era qualcosa che non andava, io ve lo dico subito, voglio buttarvi un attimo il mio pensiero, poi cercheremo di articolarlo mentre andremo avanti all'interno di questo video, qualcosa è successo, cioè qualcosa tra Allegri e la proprietà Juventus, non so se Elkan, non so se Calvo, non so chi, non ne ho idea perché in questo momento parlare della dirigenza della Juventus ha veramente poco senso, ma qualcosa è successo e non so nemmeno dirvi cosa, cioè qua hanno parlato, qua ci sono state delle chiacchierate, c'è un punto in particolare che me lo fa dire e io sinceramente un Allegri così nervoso non l'avevo mai visto, anzi l'ho visto una volta sola ed è nella famosa lite con Adani e ho avuto le stesse identiche sensazioni. Voi ricorderete bene, io sono sempre stato legato ad Allegri per il primo ciclo, anche se non si giocava in maniera spettacolare, a me comunque andava bene, vincere lo scudetto ogni anno, fare dei buoni percorsi in Champions League, essere arrivati, io ho poche cose da recriminare nella Allegri 1.0 e vi ho sempre detto che se tanti parlano di Cardiff come punto, per me Allegri inizia a scricchiolare nel momento in cui invece vinciamo con lo scudetto testa a testa col Napoli, soprattutto in quel Juventus-Napoli, gol di Coulibaly e tutta l'ultima stagione con Ronaldo dove non mi è assolutamente piaciuto, quindi diciamo che è più l'ultimo anno che mi ha fatto dire no, è giustissimo cambiare, dove poi si è arrivati effettivamente a cambiare. Eppure in quello scontro con Adani non mi ero assolutamente schierato dalla parte di Allegri, attenzione, io tra l'altro su Adani, io credo che Adani abbia un'ottima conoscenza del calcio, mi piace tanto sentirlo parlare quando parla di alcune squadre, credo che sulla Juve abbia per partito preso proprio nei confronti di Allegri tante volte che esagera, anche quando in realtà non dovrebbe, quindi faccio un po' fatica a condividere completamente le analisi di Adani, però in quell'occasione era stato secondo me assolutamente maleducatissimo Allegri, troverete anche il video qui sul canale in cui vi spiego quella roba, credo che sia un riassunto, un background doveroso per farvi capire un po' quella che è la mia idea in queste cose qui, e oggi invece ho visto un Allegri proprio nervoso, stile con la roba lì, e io vi dico, oggi io ho quasi la certezza che non è un discrezione giornalistica, non è niente, però io oggi ho la certezza che Allegri non sarà nella torre dell'alimento l'anno prossimo, vi ho sempre detto che secondo me è arrivato a fine stagione e poi si cambierà, oggi vi dico, dopo una roba del genere io sono certo, sicuro, certo, vi dico anche cosa mi è sembrata questa conferenza stampa di Allegri, la conferenza stampa di addio alla Juventus, quella fatta con Andrea Agnelli, anche questa la trovate sul canale, anche in quell'occasione secondo me Allegri ci aveva dato un grosso indizio, infatti chi mi segue da tanto ricorderà che al commento di quella conferenza stampa, io inizio a registrare un video e vi dico, ragazzi, ho una sensazione, vedremo se sarà giusto oppure no, il prossimo allenatore della Juventus secondo me sarà Maurizio Sarri. È andata così, è all'epoca a dire una roba del genere, quando ancora Allegri era sulla panchina della Juve, quando ancora il campionato doveva finire, sembrava una totale eresia. Eppure Allegri ci aveva dato degli indizi e lì Allegri era libero di parlare, era libero di dire certe cose che non aveva mai detto alla stampa, e come dicevo anche nei video dell'altro giorno, un conto e si arriva alla stampa e racconta una storiella ai microfoni, e poi invece hai una sensazione differente nel mood, e quindi quello che è successo nei spagliatoi, che oggi Allegri è negato e ci arriveremo. Però se quella volta lì era libero di parlare perché tanto stava per lasciare la Juve, oggi mi è sembrata la stessa identica cosa, Allegri che dice certe cose, Allegri che inizia dei dibattiti con la stampa, con i giornalisti, con Fabiana della Valle, nello specifico, e poi arriveremo anche a questa cosa qui, perché tanto lui lo sa, l'anno prossimo non allenerà più la Juve. Poi non so dirvi se è perché verrà allontanato dalla dirigenza, perché se lui ha già deciso di fare un passo indietro, però io oggi ho questa sensazione qui, poi vedremo se anche questo è corretto oppure no, io vivo di sensazioni, ve l'ho sempre detto, analizzo per sensazioni, per movimenti logici, per quello che riesco a captare, io oggi ve lo dico al 100%, secondo me Allegri non sarà allenatore della Juventus l'anno prossimo, e se vi ho sempre detto, secondo me Allegri non sarà alla Juve della Juventus l'anno prossimo, già da tempi in memoria, già dalle dimissioni del CDA, che vi dico che Allegri comunque non sarà alla Juve, proprio perché non c'è più Agnelli, sono cambiate le dinamiche societarie, oggi, cioè io non ho nessun tipo di dubbio, poi se si andrà avanti e sarà ancora Allegri in panchina l'anno prossimo, vediamo, non lo so, però io oggi non posso fare altro che dirvi che ho avuto le stesse sensazioni identiche della conferenza stampa d'addio insieme a Agnelli e della litigata con Adani, quando le cose iniziavano a perdere pezzi e quando si è arrivati poi al cambio in panchina per la Juve. Inizia questa conferenza in cui si prova a parlare un pochino del Bologna e del momento e dice Allegri a Juventus TV, veniamo da un brutto periodo negativo, abbiamo perso 5 delle ultime 6 partite in totale, domani abbiamo, come il calcio ci dà la possibilità di invertire la rotta, la possibilità di affrontare il Bologna, stanno facendo ottime cose e Tiago Motta sta facendo un buon lavoro. E fin qua ancora una conferenza abbastanza normale. E poi inizia, inizia già dalla seconda terza domanda, perché Allegri dice, la cosa da fare in questi momenti è una sola, stare zitti. C'è capitato nel momento di difficoltà del meno 15 e anche in altre stagioni. C'è da lavorare e da fare, abbiamo 35 giorni importanti davanti a noi, non c'è altra scelta. Parlare serve a poco, nel calcio quando non vinci sei nel torto e quando vinci sei dalla parte della ragione. Se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi sei un puntini puntini. Dobbiamo reagire perché abbiamo lasciato per strada punti in campionato. E qui Allegri va a estremizzare il suo pensiero, che è quello del risultato, ok? L'importante è arrivare al risultato, quindi se vinci sei dalla parte della ragione. Come è accaduto nel primo ciclo di Allegri, secondo me il primo ciclo di Allegri, ripeto, ma questa è la mia umilissima opinione, ci sono state delle cose sì da mettere in considerazione, da evidenziare, da mettere il dito, però complessivamente io lo ritengo assolutamente un ciclo positivo e Allegri va in questa direzione qui. Badate bene, tenete in mente questa cosa qui, perché poi Allegri arriverà a contraddirsi lui stesso. Il confronto con i calciatori non c'è stato, mi hanno detto che dentro lo spogliatore c'è stato questo o quell'altro. Quando la Juve perde, vengono fuori delle illazioni, perché la gente ha molta fantasia e vengono dette cose non vere. Io ripeto che l'unica cosa da fare in questo momento, come quando le cose non vanno bene, e mi capiterà ancora, spero di no, ma è impossibile, come diceva la conferenza di Giannis l'altro giorno, c'è un momento in cui vince un po' meno, ma c'è da lavorare con serenità per tornare a mettere i presupposti per vincere. Poi vince una squadra e bisogna lavorare per fare in modo che saremo noi quella squadra. E ancora una volta andiamo in quella direzione. La vittoria. Quindi chi vince regna, chi vince parla, chi vince ha ragione, l'obiettivo, il risultato, quello da raggiungere. Allegri qua, inizia a negare. Che sia successo o meno io, vi dico, non lo so, io non c'ero, non ho fonti, non ne ho idea. Leggo le notizie che leggete anche voi, vi dico una cosa però, perché ho visto il video sul canale YouTube di Fabiana della Valle, in cui insieme a Romeo Agresti, quindi stiamo parlando comunque di due fonti, due firme del giornalismo italiano, sportivo, giuventino, abbastanza importanti, in cui Fabiana parla di questa roba, Romeo dice, tu hai firmato lo scoop, io ho fatto le mie verifiche, non ci sarebbe bisogno di quando le scrivi te, perché bene o male, immagino che Romeo e Fabiana abbiano le stesse fonti, o comunque fonti comune, e Romeo conferma questa cosa, dice, c'è stata, quindi, so che tanti dicono, la gazzetta è lo sport, non ci credo, tanti non sono proprio dalla parte di Fabiana della Valle, io l'ho portata spesso sul canale, io la conosco, ho un rapporto di collaborazione con lei, mi trovo molto bene con lei, anche quando c'è stato il discorso di Vlaovic, l'ho portata sul canale, è stata quella che ha fatto nascere lo scoop, e poi effettivamente, è andata effettivamente così, io vi dico, io da questo punto di vista, non ho tantissimi dubbi, sulla validità di quello che diceva Viana, se arriva poi anche la conferma da parte di Romeo, a me sembra complicato pensare che questo possa non essere accaduto, ieri il giudice sportivo non ha punito Allegri, né con multa né con squalifica, quindi magari effettivamente non è successo, però vi dico, questa situazione sicuramente è bizzarra, perché Allegri nega, nega di fronte appunto ai giornalisti questa cosa qua, tornerà fuori anche questa dopo, gli dicono comunque c'è ancora poco da raggiungere, Allegri c'è poco o no, abbiamo comunque un obiettivo in campionato da raggiungere, i primi quattro posti in Serie A, poi se riusciamo il secondo posto, che migliorerebbe il piazzamento dell'anno scorso, e a noi importa il campo, poi una semifinale di Europa League, poi è normale, quando arrivi in questo momento, l'importante è, ripeto, l'obiettivo della società è arrivare a marzo-aprile a lottare per qualcosa, e ci siamo riusciti, poi se siamo bravi e fortunati, l'obiettivo principale per la società è, ripeto, per la miliardesima volta, ogni società nel campionato italiano, viste le situazioni economiche, del calcio italiano, non è che abbiamo risolti i problemi, quelli ci sono, sono solo insabbiati dai risultati che abbiamo fatto, e parla dei piazzamenti europei delle squadre italiane in Champions e in Europa League, e questo è il calcio, poi ci sono altre dinamiche, sono altre cose, una società, il Milan, la Juve, l'Inter, le 6-7 squadre, il Napoli che ha vinto, poi ce ne sono due o tre che rimangono fuori dalla Champions, e sono 70-80 unioni che vengono meno, io dico sempre che il primo obiettivo per una società è giocare la Champions l'anno dopo, noi in questo momento siamo bravi, anzi siamo in lotta per giocare la Champions l'anno dopo e per vincere l'Europa League, anzi per andare in finale, un passo alla volta, poi se siamo bravi e fortunati ci riusciamo, se noi abbiamo fatto il possibile per vincere e ottenere qualcosa, questo è sicuro, la frase precedente, le due frasi precedenti in cui si parla di vittoria, di obiettivi, di trofei, e la frase successiva in cui si parla di risultati, risultati che insabbiano i problemi, a me sinceramente sembrano dette da due persone differenti, qua lei grinzia a scaldarsi, qua ha iniziato a pensare, ahi, succede qualcosa, e siamo ancora nella fase embrionale della conferenza stampa, non è ancora successo il disastro, perché poi arriva il disastro, io non riesco a capire sinceramente come un allenatore che mi parla di risultati, di risultati ottenuti, di vittorie, poi mi possa parlare invece di problemi insabbiati dei risultati, allora significa che tutte le volte che siamo andati in conferenza stampa a parlare di risultati ottenuti, di vittorie, e a volte anche a vantarci una sorta di cielo lunghismo su quello che abbiamo ottenuto, allenando la Juventus, è stata fuffa, è stata una bugia, è stata un'incredibile bolla di sapone, è stata una volontà di prendere in giro l'interlocutore che ti faceva la domanda, e chi invece la devi ascoltare, e quindi il tifoso che deve poi andarsela a leggere, no? Perché se parliamo di risultati, non possiamo parlare di problemi insabbiati dai risultati, perché se raggiungiamo i risultati vuol dire che i problemi non ci sono, cioè mi sembra una roba banale, perché se no saremmo qui a dire, eh, complimenti al Napoli che ha vinto lo scudetto e quindi ha raggiunto un risultato, invece che dire ne hanno vinto uno bravi, ed è vero, ne hanno vinto uno bravi, noi ne abbiamo vinti cinque, però ci vuole anche equilibrio allora in questo ragionamento, hanno vinto? Bene, finisce lì, Inter e Milan sono arrivati in semifinale di Champions, vinceranno la Champions? Sì, no, però allora perché il nostro percorso europeo, che c'è stato in quegli anni lì, ha una valenza e questo no? Perché c'è stato un percorso più lungo? Sì, può essere, quindi se magari il Napoli apre un ciclo, se l'Inter e il Milan apre un ciclo, arrivano a fare quei piazzamenti, d'accordo, però come all'epoca si parlava bene della Juventus, che magari vinceva il primo scudetto, o magari arriva per le prime volte a giocarsi in una semifinale di Champions, io, da tifoso della Juventus, quindi ho tutto meno che l'interesse di stare qui ed elogiare Milan-Inter, che secondo me hanno avuto problemi, e ciò dimostra la classifica di Serie A, però sono arrivati lì, e per me c'è da fare i complimenti perché sono arrivati lì, io ho un'invidia sportiva pura, sana, limpida, e invidio, perché io sono a giocare la semifinale di Europa League, loro sono a giocarsi la semifinale di Champions, e un'italiana in finale di Champions ci andrà, non posso negare di avere un'invidia, e credo che sia un'invidia buona, un'invidia sana, un'invidia sportiva, che è la base di questo sport, quindi sicuramente non ha senso parlare di problemi, insabbiati dei risultati, se poi parliamo di risultati, perché allora significa che quando poi arrivi ai risultati, devi anche parlare dei problemi, e a me pare che in questi anni non sia mai stata fatta questa cosa, ma questa è ancora, ripeto, una fase embrionale, poi dice, ah, un'altra cosa, un'altra cosa, sembra quasi che passi il messaggio, che la Juventus che arriva comunque nelle prime quattro in Italia, e vabbè, dai, siamo comunque al 29 di aprile, e comunque ci stiamo giocando qualcosina, sia un risultato straordinario per la Juventus, attenzione, non è così, cioè non facciamo passare il messaggio, che arrivare al 29 di aprile, a giocarci secondo, terzo o quarto posto in Serie A, poi vedremo, e una semifinale di Europa League, sia un risultato straordinario per questa Juve, perché non è assolutamente così, cioè non è assolutamente così, la Juventus questa estate partiva con altri presupposti, Allegri lo scorso anno, a termine del campionato, diceva, l'anno prossimo dovremo tornare a vincere lo scudetto, lavorare per vincere lo scudetto, saremo una squadra che lotterà per lo scudetto, la Juventus non è partita per andare a giocare l'Europa League, la Juventus è partita per superare il giro nei Champions, obiettivo che ha fallito prima della penalizzazione, la Juventus era una squadra che partiva per lottare per lo scudetto, obiettivo che ha fallito prima della penalizzazione, lì lì, dato che ne hai presi 5 a Napoli, e comunque sei partito male, quindi non facciamo passare, perché questa secondo me è la cosa più importante, non facciamo passare, e lo dicevo in un video di gennaio, mi pare, in cui la Juventus aveva inannellato quelle 9, 8, 7 vittorie a gennaio consecutive, prima di completarle, per poi perdere appunto a Napoli 5 a 1, e dicevo, d'accordo, in questo momento hanno risistemato un attimino, hanno rimesso a posto la classifica, va bene, ma non facciamo passare, come adesso la Juventus guarita, come adesso la Juventus che ha risolto, come adesso la Juventus che sta facendo una grande stagione, perché la grande stagione poi la fai se arrivi a continuare questo filotto, arrivare attaccato al Napoli, magari avvicinarti al Napoli, iniziare a lottare per lo scudetto, e vincere effettivamente dei trofei, ora siamo nella condizione che possiamo vincere solo l'Europa League, e anche di questo ci arriviamo, ma non facciamo passare questa stagione della Juventus come clamorosa, perché siamo arrivati qui, a giocarci l'accesso alla Champions l'anno prossimo, perché Allegri dice, io lo dico sempre, l'obiettivo principale per una squadra è giocare a Champions l'anno prossimo, se mi avessero detto, nell'arco dei cinque scudetti, che Allegri come obiettivo principale, ai nastri di partenza, aveva quello di iniziare ad arrivare in Champions l'anno prossimo, avrei detto, non ci credo, perché Allegri non può avere detto una roba del genere, quindi secondo me Allegri molto furbo, allora dovrebbe dire che dipende dal contesto, dipende dal contesto, se c'hai la squadra che, allora l'obiettivo è vincere lo scudetto, se pensi di non avere la squadra che, e secondo me in realtà la Juve, comunque per il livello del campionato italiano di quest'anno, ha comunque la squadra che, l'obiettivo è arrivare in Champions, però allora non parliamo più di uno che vince, perché ovviamente devi anche metterlo in considerazione su una scala di cose che si possono fare, non mi si può dire, prendo l'esempio di italiano, della Fiorentina di italiano, che in questo momento si gioca una finale di Coppa Italia, una semifinale di Conference League, ha fallito perché non vinco lo scudetto, la Fiorentina non parte per vincere lo scudetto, non mi si può dire che il Bologna che affrontiamo domani ha fallito perché non vince lo scudetto, il Bologna sta facendo una stagione incredibile, perché il Bologna parte per salvarsi, per rimanere in metà classifica, e magari guadagnarsi delle posizioni europee, allora come dipende dalla squadra che alleni, dalle condizioni, dal livello, da quelli che sono gli obiettivi, perché alla fine è sempre quello, l'obiettivo che vai a proporre tra società, allenatore, a inizio anno, in relazione al mercato, in relazione allo status, in relazione agli stipendi, ai soldi di gestione della squadra, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salvarci, dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo arrivare in Champions, dobbiamo vincere la Coppa Italia, dobbiamo vincere l'Europa League, dobbiamo vincere la Champions, in base a quello che decidi, all'inizio, poi al fine della stagione, tiri una riga e ti fai un'idea, non è che poi arrivi a fine stagione e gli obiettivi cambiano, perché allora è una paraculata immensa, diciamoci le cose come stanno, allora è una paraculata immensa, la Juventus che l'anno scorso, per parola di Allegri, deve ritornare a vincere lo scudetto, la Juventus che nella prima conferenza stampa di Allegri di ritorno, dice la Juventus deve tornare a vincere, creare valore, arrivare ai risultati, conquistare trofei, non può dopo due anni di lavoro dirmi, la Juventus, l'importante è arrivare nelle prime quattro, perché bisogna giocare la Champions, perché stiamo parlando del niente, se cambiamo gli obiettivi, allora a seconda dell'aria che tira, loro non abbiamo mai fallito, abbiamo sempre fatto la stagione perfetta, perché magari arriviamo quinto e diciamo, sì vabbè ma alla fine l'importante è giocare in una Coppa Europea, allora non prendiamoci in giro, perché dovessimo vincere l'Europa League quest'anno, sarò felicissimo, non ho mai visto vincere l'Europa League, mi piacerebbe, credo che non la vinceremo, perché i presupposti oggi per vincere l'Europa League, non li vedo, dovessimo vincerla, sarei felicissimo, ma non prendiamoci in giro a dire, che quest'estate l'obiettivo era vincere l'Europa League, non prendiamoci in giro a dire che l'obiettivo era vincere l'Europa League, ripeto, sarei felicissimo, festeggerei, andrei in giro a festeggiare, ma non prendiamoci in giro, cioè questa cosa deve rimanere scolpita, perché se c'era un obiettivo inizio anno, l'obiettivo non può cambiare in corso d'opera, non può, a meno che mi dici l'obiettivo cambia per XYZ, però me li dici quali sono le motivazioni, me le dici davvero, me le dici davvero, perché sennò manca sempre un pezzo, e ci torneremo sopra anche a questa cosa qui. Arriva Giovanni Guardalà, e qua Allegri inizia a triggerarsi, e dice, quando le cose vanno male, l'allenatore nel primo nel mirino dice Guardalà, salta su Allegri, non gli fa finire la domanda, e inizia un monologo, e dice, io soprattutto, è per me un divertimento veramente, io voglio bene a tutti, è un divertimento, pensa domani, quando magari non ci sarò più io, e ne dovrete prendere un altro di mira, è meraviglioso, è divertente, su questo mi stimolate. Ora, io credo che Allegri non possa permettersi di dire una frase del genere, perché se parliamo di social, se parliamo di tifosi, allora io sono dell'idea che Allegri abbia tutte le ragioni del mondo, a dire, oh, questo mi prende di mira, questo dice questo, questo dice quell'altro, però il tifoso, penso che non abbia limite, io sono un tifoso, io sono un content creator, io non faccio informazione, io faccio opinione, quindi credo che le mie opinioni, siano sacrosante, condivisibili, o meno, ma sono mie opinioni. Se mi parli della stampa, e quelli che ti vengano a fare le domande, tante volte, tantissime volte, ci sei ritrovati a dire, ragazzi, questa domanda, è troppo comoda, poteva fargliela, un po' più scomoda, ma anche queste sono opinioni, sono opinioni mie, come sono opinioni vostre, leggo tanti vostri commenti, ci sono spesso scritte queste cose, però poi, a livello giornalistico, non è il mio mestiere, non è il vostro, se fanno queste domande, io non voglio mettere bocca all'interno, delle decisioni professionali di una persona, quindi, non credo, poi, io ho la mia opinione, potevano farle a più, però non può Allegri venirmi a dire, ci sarà un altro a prendere di mira, il video che ho fatto l'altro giorno, sulle dichiarazioni di Allegri, apro e chiudo a parentesi, è andato meravigliosamente, e vi ringrazio, e vi ringrazio, perché siete stati bravissimi, avete commentato, un video che è diventato super virale, Mediaset inizia, la domanda dicendo, a testa alta, a testa alta, questo è prendere di mira l'allenatore, se mi parli di stampa, questo è prendere di mira l'allenatore, a testa alta, l'altra sera, secondo me Allegri, dovrebbe un attimino, risintonizzarsi, perché, già il fatto che inizia a scaldarsi, una domanda di prima, e ribadisco, discorso senza senso, quello che fa, il fatto di, prendere la parola su Giovanni Guardalè, non fargli finire la domanda, per dire questa roba, perché la voleva dire, perché è una domanda, questa la voleva dire, era una roba che voleva dire, secondo me poteva risparmiarsela, e da qui, quella piccola fiammella, che si era accesa prima, divampa, e diventa un incendio, perché Allegri, sulla domanda di Guardalè, che era una domanda diversa, Guardalè diceva, ma perché, comunque le prestazioni che sono state fatte, la migliore è stata quella di Napoli, dove si è perso, ma dove c'erano stati altri giocatori, poi, vedi quella con l'Inter, gioca di Maria, gioca Chiesa, e comunque gioca a Malle, Allegri qua, ed è un'altra cosa che fa sempre, risponde come vuole lui, non va a rispondere alla domanda di Guardalè, prende un pezzettino, e da quel pezzettino, scrive il resto della risposta, e dice, vediamo, stanno tutti bene, non è questione di gioca a Chiesa, eccetera, e inizia a parlare delle condizioni fisiche, di Chiesa e Pogba che sono infortunati, che niente a che vedere, con la domanda che gli era stata fatta, ed era chiara, si voleva arrivare al punto di dire, ma perché, questi giocatori che dovrebbero dar di più, non danno di più, è colpa dei giocatori, o è colpa di qualcos'altro, e Allegri non vuole rispondere, dice, Chiesa è un giocatore straordinario, che strappa, e può risolvere la partita, viene da dieci mesi di inattività, quel equilibrio fisico e mentale da ritrovare, non è facile, per me rientra tutto nella norma, Paul, Pogba, che è un anno che fermo, non ancora in condizioni ottimali, per giocare una partita, io vorrei tanto avere il Pogba, il primo che ho allenato, ma in questo momento non è così, e di solito, tanto tempo dopo, tanto tempo non sta fermo, tanto più ne serve per recuperare, ma non lo dico io, perché sono bravo, ci sono degli studi, di non aver Chiesa, Pogba, Vlaovic, eccetera, che non sono ancora al 100%, e Vlaovic viene da una pubaggia importante, non è di vero tanto scarso, per tornare sui livelli ci vuole tempo, la fortuna è che, grazie al lavoro dei dieci anni, del settore giovanile della Juve, sono venuti fuori, Miretti, Fagioli, sulle healing, che comunque hanno fatto tante partite, Miretti un 2003, ha fatto più di 40 partite nella Juve, Fagioli che l'anno scorso ha giocato 25-30, e io dico sono 33 mi pare, partite nella Cremonese vincendo il campionato, è un ragazzo di talento, quest'anno la Juventus ha giocato più di 30 partite, mi pare 32, non è facile giocare 30-40 partite nella Juve, una volta con Buffon, Buffon mi disse, sono arrivato alla Juve il primo anno, non avevo ancora capito niente, al secondo iniziavo a capire, ci sono tempi di crescita, poi capisco che dall'esterno, si vorrebbe tutto e subito, ma ci vogliono pazienza e programmazione, delle cose negative come Pogba e Chiesa, abbiamo trovato dei ragazzi giovani, che sono patrimonio della società, anche a livello economico, su questo bisogna continuare ad andare avanti, non perdendo di vista l'obiettivo. Allora, non è finita, è un monologo vero e proprio, fermo un attimo, ripeto, ad Allegri non si stava contestando Chiese e Pogba non in condizioni ottimali, perché questa è una cosa naturale, non si stava contestando Fagioli e Miretti che non hanno visto il campo quest'anno, perché l'hanno visto, soprattutto Fagioli, che in questo momento è un desaparecido, non si stava contestando alla Juventus la mancata programmazione, il mancato lavoro sul settore giovenile, perché mai come quest'anno si sta vedendo. Veniva contestato il fatto che, in campo, giocatori come Chiese di Maria non rendono come dovrebbero rendere Chiese di Maria Chiesa a questo livello qui, di preparazione atletico, e di Maria al livello di preparazione atletica, che può avere, ma non rendono come dovrebbero rendere Chiese di Maria. Quindi questo è un discorso, tutto che Allegri ha voluto fare, anche questo perché lo voleva fare, è sembrato quasi un voler mettere in evidenza una sorta di giustificazione, o comunque, vabbè, però Pogba e Chiesa sono così, Vlaovic è così, e vi ho fatto anche giocare i giovani della serie Non vedete tutto nero, perché c'è anche del bianco. Ma ripeto, non erano queste le cose che si stavano contestando, perché, per me queste cose sono naturali, Chiesa-Pogba è normale che non siano al 100%, Miletti e Fagioli hanno giocato delle partite, e quindi questo è in assoluto, e secondo me l'unico punto positivo di questo Allegri 2.0 è stata l'inserimento di due o tre giocatori del settore giovanile, l'unico, ma non si stava contestando questo. Poi Allegri, Allegri, qui, qui, inizia un discorso che secondo me è una vera e propria frecciatina nei confronti di Juventus. Questa è una vera e propria, frecciatina nei confronti di Juventus, è per quello che all'inizio dicevo, io non so con chi ha parlato, io non so chi gli ha detto qualcosa, ma qualcosa tra Juventus e Allegri è accaduta. E ve la spiego qui, perché sempre in questo papiro di risposta Giovanni Guardalacca, aveva fatto tutta un'altra domanda, e prima ha detto cose che non gli hanno chiesto, ma che voleva dire? Anche qui dice una cosa che non gli hanno chiesto, ma vuole dire. e vi invito a riguardarvi questo pezzettino qui, vi invito davvero a guardarvelo, perché raccontate un conto, ma visto da parte di Allegri un altro. Allegri dice, attenzione, il momento più difficile è ora, non quando ci hanno tolto i 15 punti, è ora, ma non parlo solo della squadra, parlo di tutto, perché la società e tutti quelli che ci sono dentro sono un blocco unico. Abbiamo 35 giorni che sono i più importanti della stagione, come sempre, a meno che tu non sia fuori da tutto. Fortunatamente abbiamo ancora due obiettivi e dobbiamo essere un blocco granitico. E poi Allegri dice, e qui parlo a 360 gradi. Blocco granitico tutti, anche la società, parlo a 360 gradi. Allora, io sono laureato in informatica, quindi non sono un esperto di questa roba qui, non sono uno psicologo, non parlo di comunicazione, non ho studiato di comunicazione, però a me qua pare di capire che è un blocco unico, dobbiamo esserlo anche la società, a 360 gradi, sia tradotto in o adesso non lo siamo mica, adesso non siamo un blocco unico, adesso ci sono io, qui. La società sta andando da un'altra parte, la società ha un'altra idea, la società pensa ad altre cose, e qui abbiamo ancora due obiettivi che Allegri definisce importanti. Ma allora qui torniamo al punto di partenza. Non è che la società sia andata ad Allegri a dirgli, Max, noi quest'estate siamo partiti con degli obiettivi che non erano questi, non va bene che siamo arrivati a questo punto della stagione, volevamo altro, e da qui inizieremo a ragionare sulla prossima stagione sportiva, magari con un altro profilo in grado di farci raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. E Allegri invece risponde dicendo sì ma questi sono comunque obiettivi importanti e dobbiamo portarli a termine, io ora mi sento abbandonato dalla Juventus. Questo potrebbe essere sensato secondo me sì, perché andrebbe a spiegare il nervosismo di Landucci contro Spalletti, inspiegabile, il nervosismo di Allegri ripreso che dice avete vinto uno scudetto e quello che Allegri ha negato prima del nervosismo a fine partita. Andrebbe a incastrarsi perfettamente secondo me un allenatore e il suo staff che in questo momento sono stati informati che gli obiettivi che hanno raggiunto e che loro considerano importanti non sono gli obiettivi che la Juventus stava inseguendo e gli obiettivi che ci si era prefissati all'inizio stagione. È successo di tutto nel mezzo? La risposta è sì, ma anche prima di tutto quello che stava succedendo non si stava raggiungendo quegli obiettivi. Ha maggior ragione se si arriva a 35 giorni nella fine della stagione in queste condizioni dove ne hai perse 5 nelle ultime 6, dove sei stato eliminato dall'Inter, dove non vedi prospettive per andare avanti in Europa League se continui su questa strada e dove addirittura rischi di arrivare fuori dalle prime 4 sul campo sul campo perché non stai vincendo le partite. A me fa pensare questa roba qui che dall'alto Elkan chi volete voi perché non lo so chi possa essere stato gli abbia detto Max no così non va questo abbia scatenato un nervosismo abbia fatto in modo di far giocare quella partita di Napoli alla Juventus in quel modo lì aver stimolato Allegri a preparare la partita in maniera differente aver fatto vedere che comunque il Napoli che ha vinto lo scudetto ha vinto al 93 ma la partita comunque la Juventus l'aveva giocata dignitosamente e aver sottovalutato l'Inter sopravvalutato la Juve creando un nervosismo in Allegri che si aspettava invece di vincere facilmente che si è sfogato con i dirigenti dell'Inter e che poi si è sfogato con i calciatori della Juventus dicendo come avete fatto a perdere contro questi morti ora sono tutte indiscrezioni giornalistiche ripeto Fabiana della Valle firma lo scoop su Gazzetta Romeo Agresti conferma questa cosa Allegri nega però io se le metto tutte in fila e le metto all'interno di questo ragionamento ragazzi a me fila tutto a me fila tutto Juventus che prima di Juve Napoli dice da Allegri sì ma mister adesso ci siamo già giocati troppo siamo qualificati alla semifinale di Europa League abbiamo visto come questo aprile la Juventus non sta facendo niente ora è il momento Allegri viene stimolato comunque si perde la partita si crea nervosismo Allegri sottovaluta l'Inter l'Inter perde la Juventus sbaglia l'atteggiamento Allegri si arrabbia viene richiamato ai piani alti e Allegri che si sfoga in conferenza dicendo in questo momento non siamo un blocco unico a me sembra a me sembra tornare tutto a me sembra tornare tutto e Allegri che continua a difendere attenzione abbiamo ancora 35 giorni e tutto può succedere e non lo sta dicendo a noi non lo sta dicendo a noi lo sta dicendo la Juventus lo sta dicendo a Toselli Luca gli iscritti di Toselli Luca gli abbonati di Dazon i lettori dei giornali della stampa dei giornalisti che fanno le domande e scriva le risposte sta dicendo la Juventus ha utilizzato una conferenza stampa della Juventus per parlare direttamente alla Juventus ora ditemi che questo non è un chiaro segnale di malessere all'interno della Juventus e di qualcosa che non sta toccando come dovrebbe un ragazzo ieri nel video mi ha commentato è quel famoso triangolo società allenatore giocatori di cui parlavi anni fa e ve lo rifaccio per vincere per tornare a vincere quei trofei di cui si parlava prima serve unità di intenti serve creare questo triangolo la società sceglie l'allenatore l'allenatore sceglie i giocatori i giocatori sono contenti di rimanere all'interno di questa società voi vedete questo triangolo in questo momento io no senza queste prospettive questa serenità e questi rapporti interpersonali perché alla fine società squadra sono persone sono persone e le persone si possono arrabbiare le persone possono essere alterate come accaduto in questo momento Allegri come sta accadendo in queste settimane a me viene difficile pensare che non sia effettivamente accaduto qualcosa negli spogliatoi con l'inter che non ci sia stato quel confronto con i calciatori a me viene un po' difficile pensarlo andiamo avanti gli chiedono ma come si spiega queste partite un po' così magari ci sono state delle scelte non azzeccate e lui dice magari sì ci sono state delle scelte non azzeccate ma spiegare è difficile in questa esperienza anzi io questa esperienza anche peggio l'ho vissuta a Cagliari al mio primo anno in Serie A con 5 sconfitte di fila apri chiudo a parentesi di questa cosa ne ho parlato con Geda su tutti i teorici Geda ci ha parlato di Allegri della sua avventura a Cagliari di quella che è la sua opinione su Allegri quindi vi invito ad andarvelo a vedere sul canale di tutti i teorici perché Geda ci ha parlato proprio anche di queste 5 sconfitte consecutive di quello che è accaduto tra giocatori e dirigenza del Cagliari a difesa di Allegri attenzione Allegri è stato salvato retroscena dai giocatori del Cagliari dall'esonero in panchina perché Cellino aveva altre idee vi invito a andarvelo a vedere sul canale di tutti i teorici ed è successo anche nel 2015 dove abbiamo fatto 10 punti 10 partite poi abbiamo messo un pezzetto alla volta ora abbiamo 7 partite e speriamo 3 di Europa League dobbiamo pensare a quello che è domani quello che vediamo oggi tutto nero magari domani sarà un po' più grigio e poi dovremo portarlo ad un colore più consono alla Juventus da questi momenti dobbiamo uscirne tutti insieme senza vedere più nero di quello che è nonostante i disastri che abbiamo fatto siamo momentaneamente terzi in classifica ora io credo che però arrivati a questo punto della stagione sia anche logico opportuno e normalissimo tirare delle righe e fare dei bilanci che non possono essere definitivi perché la stagione non è ancora finita ma prendendo in considerazione il cammino della Juventus in campionato dove parte male poi si riprende e dove ora va male e tenendo conto di quelle 9 partite consecutive vinte senza prendere gol 9 sono 38 partite quindi 31 con le 7 che rimangano da giocare 31 meno 9 22 su quelle 22 partite rimanenti fuori da quel filotto c'è stato molto un andamento altalenante quindi escluso quel periodo in cui la Juve stava meglio perché stava meglio le altre 20 abbondanti partite di campionato non hanno detto tanto e anche quelle 9 e lo ricorderete perché io ogni tanto mi ritrovo dei commenti di gente che mi dice sì ma tu lo davi quelle vittorie le facevi passare come tutto perfetto allora i casi sono due o non guardate i video siete in mala fede perché andatevi a vedere anche le partite che avevamo vinto partita con Lecce partita con la Cremonese partita con l'Udinese datevela a vedere ecco i post partita la stessa partita con l'Inter in cui dico che il primo tempo se andiamo sotto non c'entri ma andatevele a vedere parlate con cognizione di causa non parlate mettendomi delle robe in bocca che non ho mai detto e che vanno contro quello che penso perché se no stiamo facendo un giochino che non ha minimamente senso quindi se metti tutto sullo stesso piano di ragionamento ti viene naturale pensare che comunque la Juventus quest'anno non si sia comportata bene che si sia terza ma all'interno di un campionato che ha dei limiti e lo diceva prima l'Allegri stesso abbiamo dei problemi nonostante le qualificazioni europee ed è vero ed è vera questa cosa ed è vera allora perché dobbiamo aspettare 35 giorni a parlare di risultati poi allora magari quella vittoria dell'Europa League il risultato copre tutto il resto dei problemi che c'è stato non in un anno in due e capite il cortocircuito di ragionamento capite perché secondo me a seconda di quello che voleva dire Allegri cambia tutto cioè lo vuoi usare come attacco come difesa perché mi è sembrato che alcune cose le potesse prendere per difendersi alcune cose le potesse prendere per giustificarsi però le stesse cose che possono essere usate contro di lui come attaccano quelle le escludiamo cioè non ha senso non ha senso e poi Allegri inizia a dire cosa è successo perché chi ha detto che è successo qualcosa da chi sono state riportate scusi queste cose dello spogliatoio di San Siro mi dica i nomi e poi credo che noi dobbiamo pensare alla partita di domani ora la prossima domanda è proprio di Fabiana della Valle che ha firmato quel pezzo su Gazzetta sulle indiscrezioni voglio essere sincero prima vi dicevo un ottimo rapporto con Fabiana mi aspettavo che Fabiana dicesse ma torniamo al discorso di prima io non è che posso giudicare il suo lavoro mi aspettavo semplicemente che dicesse guardi le ho firmate io se non è andata così e la mia fonte mi ha riferito che così e ripeto ricostruzioni giornalistiche confermate anche da altri giornalisti ci spieghi cos'è accaduto invece si vede che Fabiana aveva già una domanda predefinita e non ha potuto cambiarla ma è stata solo l'inizio della fine perché se Allegri fino adesso è stato nervoso e ha detto cose anche scomode Fabiana l'ha completamente mandato fuori di testa perché Fabiana gli fa una domanda sui due anni di Allegri e gli chiede bene o male cosa dovrebbe fare Allegri da qui al termine della stagione per essere soddisfatto e ancora una volta Allegri non risponde ma Allegri dice questo è un problema della società non mio io sono tornato sapendo le problematiche che era difficile tornare subito a vincere però allora torniamo al fatto che nella prima conferenza stampa posto ritorno parla di vittoria io vinto scrive di tornare a vincere allora significa che o hai detto una bugia prima o hai detto una bugia adesso o sapivi le problematiche e quindi era difficile tornare a vincere e quindi hai mentito alla prima oppure sei tornato con la consapevolezza di vincere di riuscire a vincere e quindi non è vero che sapevi le problematiche che sarebbe stato difficile tornare a vincere e che quindi qualcosa è successo per strada cioè non è che ci sono tante strade o hai mentito prima o hai mentito adesso o ti sei difeso prima o ti stai difendendo adesso c'è tanta strada dice Allegri lo scorso anno è stata fatta una stagione dove fino alla partita con l'Inter si parlava di Scudetto poi la partita con l'Inter l'abbiamo persa ma si parlava a chi lo stesso Allegri l'anno scorso ve lo ricorderete le abbiamo fatte tutte le conferenze stampate l'anno scorso tutte Allegri diceva c'è una squadra che può vincere lo Scudetto quest'anno è l'Inter Allegri dava tutto sull'Inter poi il fatto che arrivati allo scontro diretto un'eventuale vittoria con l'Inter avrebbe rimesso la Juventus in corsa che non significa che la Juventus avrebbe vinto lo Scudetto ma l'avrebbe reinserita in corsa è un altro discorso ma l'abbiamo persa quindi chi parlava di Scudetto l'anno scorso l'anno scorso ovviamente non è mai stata in corsa per lo Scudetto ma che senso ha dire che l'anno scorso si parlava di Scudetto ma ce la ricordiamo la stagione l'anno scorso e quella di quest'anno perché non vorrei mai che qualcuno dicesse fino a partita con Napoli si parlava di Scudetto non è vero anche lì se vincevi con Napoli eventualmente riaprivi entravi in un discorso che poteva portare allo Scudetto ma l'hai perso 5 a 1 cioè non inventiamoci le cose non inventiamoci le cose che l'anno scorso si parlava di Scudetto ma chi parlava di Scudetto come quest'anno chi parla di Scudetto l'altro giorno ero OCV un paio di settimane fa forse 10 giorni fa mi hanno portato la tabellina prima di Juve Napoli se la Juve fa così il Napoli fa così io mi sono messo a ridere ma c'è gente che ancora credeva di poter fare sta roba qui poi OCV lo faceva per il content ma sono convinto che ci fosse gente che ah ma se vinciamo col Napoli si vince oh ma ragazzi ma di cosa stiamo parlando ma bisogna essere obiettivi sereni tranquilli e dire le cose come stanno cioè non è che possiamo farci dei film in testa e pretendere poi che se sono dentro la nostra testa vengano confermati ma chi parlava di Scudetto l'anno scorso e abbiamo perso una finale di Coppa Italia e una Supercoppa al 120esimo e allora se vogliamo parlare dei due trofei dell'anno scorso che sono stati persi parliamone ci sono i video sul canale dico le stesse cose Supercoppa persa al 120esimo l'errore di Alexandro è grave gravissimo Alexandro era 3 in pagella mi pare 4 non mi ricordo cosa avevo dato 2 non mi ricordo però quella partita è stata preparata per non vincerla per portarla ai rigori non c'è stata fase offensiva andatevele a vedere ero in macchina nel parcheggio di San Siro con un buio terrificante non si vedeva niente ma si sente bene l'audio e lì ci sono state gravi responsabilità di Allegri in quella partita non puoi dirmi abbiamo perso al 120esimo è stata preparata male Coppa Italia ero a Roma all'Olimpico le ho viste tutte e due dal vivo sono state due delusioni incredibili come l'eliminazione in Champions col Villareal perché c'erano tutte e tre quest'anno non ci vado non ci vado come non sono andato a Lisbona non ci vado a Roma a Roma la perdi perché nel secondo tempo dopo che hai abbandonato l'approccio del primo la ribalti perché questa Juventus come quella dell'anno scorso quando molle i cavalli fa qualcosa poi sei tornato semplicemente ad accettare e a difendere il risultato e l'hai persa e non sono responsabilità dell'allenatore sono responsabilità mie datemi la colpa sì ero allo stadio è colpa mia porto sfiga cioè non possiamo riassumere abbiamo perso tu hai una al centoventesimo l'abbiamo perse perché perché l'allenatore ha fatto delle letture sbagliate e come in passato nel primo ciclo ho dato tanti meriti ad Allegri io trovo giusto logico e coerente che se do dei meriti per certe cose ci siano anche dei demeriti per certe cose perché sennò non stiamo parlando di calcio perché sennò non stiamo parlando liberamente perché sennò stiamo parlando per simpatie e antipatie e questo non è logico coerente non può essere una roba da Juventus e torniamo al video di ieri se l'Aventus confermerà Allegri lo farà per risultati per ricatto o per amicizia e riconoscenza cioè non è che ci possiamo girare tanti intorno e ancora Allegri dice quest'anno sono cresciuti tanti giovani ancora non è quello il punto non si sta parlando di quello perché lo dobbiamo dire e poi dice una cosa intelligente che però ha utilizzato lui stesso in questa conferenza per girare la frittata a suo favore dipende sempre da uno nella vita le cose a seconda di come uno le vuol vedere e dire cambiano già è esattamente così poi io non devo star qui a difendermi dice Allegri non devo difendermi di niente e qui capisci che la situazione si sta surriscaldando che Allegri non è più sereno non è più tranquillo io devo solo lavorare come ho sempre fatto vediamo come finisce quest'anno abbia la possibilità di fare bene e torniamo al discorso di prima mister per quanto mi riguarda no possiamo non farla finire in tragedia possiamo vincere un trofeo che comunque non era quello che ci eravamo detti inizio anno e che comunque ci renderebbe contenti all'interno di una stagione brutta che rimane brutta anche con l'Europa League se non ci riusciremo significa che qualcuno sarà stato più bravo ma allora perché prima parlavamo di risultati che hanno messo i problemi da parte come polvere sotto il tappeto quindi l'Europa League non sarebbe un risultato che porterebbe la Juventus a mettere sotto il tappeto questi problemi o lo diventa solo una qualificazione degli altri c'è un discorso che vale solo per gli altri un discorso che vale anche per noi e qua Fabiana che secondo me si è sentita un po' un pochino legittimata dal fatto che Allegri prima ha negato l'articolo che ha scritto lei e non ha potuto probabilmente per ragioni non lo so immagino legate al giornale che aveva programmato quella domanda fare dire l'ho scritto io allora qua Fabiana interviene senza microfono e viene anche richiamata dalla comunicazione della Juventus e dato che ha chiesto una cosa specifica ad Allegri e Allegri non ha risposto cioè Allegri come saresti soddisfatto col quarto posto e basta saresti contento che era la domanda principale alla quale Allegri mi aveva risposto Allegri qua va giù di testa e dice dillo te scrivilo te te hai il tuo pensiero e scrivi il pensiero tuo io non sono soddisfatto di niente non sono stato soddisfatto nemmeno quando abbiamo perso la Champions eppure a me non sembrava di sentire tanta insoddisfazione perché comunque il percorso per quello che erano i livelli della Juve e gli avversari che ha trovato la Juve in finale erano stati percorsi ottimi perché il calcio i risultati i trofei sono risultati e trofei ma anche i percorsi fatti in un certo tipo sono risultati non sono trofei ma sono risultati che domanda è scusa dice Allegri e qua iniziamo a sentire che se prima voleva dire ma sì dove dovrete trovarne un altro e possiamo dirlo tranquillamente non ci sono mai state troppe domande scomode nei confronti di Allegri questa domanda scomoda la quale non aveva risposto e per una volta il giornalista che gli ripone la stessa domanda come per dire sì però adesso rispondimi alla domanda gli ha dato fastidio Allegri dice ci sono delle domande più intelligenti e Fabiana giustamente risponde no questo è un pensiero tuo e Allegri dice ma io te l'ho scritto te l'ho detto apposta scrivi un pensiero tuo e Fabiana dice sono qui a farti delle domande non a scrivere un mio pensiero e vorrei sapere Allegri come sarebbe soddisfatto a fine stagione e Allegri risponde non lo devo dire sicuramente a te allora c'è una conferenza stampa c'è un allenatore che risponde giornalista che fa le domande e scrivono quello che dice l'allenatore e sono interessati al pensiero dell'allenatore è una domanda innocua è una domanda logica anche arrivata a questo punto e dopo due stagioni praticamente con lo stesso copione l'allenatore sarebbe soddisfatto semplicemente arrivando al quarto posto prima Allegri aveva detto eh sì il primo obiettivo è giocare poi la Champions l'anno prima l'anno dopo allora torniamo ancora quando è che stai mentendo adesso prima dopo perché delle bugie ci sono o semplicemente un modo di comunicare che Allegri che non vuole dire tutto quello che però allora cosa facciamo a fare le conferenze stampa se tanto ti facciano domande rispondi a quello che vuoi se tanto se poi c'è una domanda scomoda di tanto in tanto ti viene ripetuta ti arrabbi se ci possiamo cambiare permettere di cambiare gli obiettivi in corso d'opera perché poi un giornalista salta su e dice va bene almeno per rispetto dei tifosi e Allegri dice io credo guardate nel rispetto dei tifosi io ho molto rispetto per i tifosi e li ringrazio per quelli che stanno facendo io qua voglio aprire una piccola parentesi piccola perché io quest'anno ho avuto la possibilità e la fortuna di incontrare la squadra due volte Villar Perosa e post Sassuolo Juve due volte due situazioni anche differenti due momenti differenti e ho avuto la fortuna con chi più con chi meno dei giocatori di interagire con lo staff chi più chi meno di interagire Landucci Padoin benissimo una sola persona non sono mai riuscito a incontrarla a fermarla a fare una foto a fare una chiacchiera Allegri Nea Villar Perosa che non si è praticamente mai o quasi mai avvicinato ai tifosi e col Sassuolo magari complice il fatto che si era perso dopo l'intervista è preso ha fatto una strada differente non è nemmeno passato davanti ai tifosi ed è andato sul pullman io credo che anche questo sia rispetto per i tifosi in minor parte come è rispetto per i tifosi in conferenza stampa dire le cose davvero come stanno nei momenti difficili l'altra sera dire abbiamo fatto una buona partita non esiste nel mondo quello è rispetto per i tifosi come rispetto per i tifosi andare allo stadio e vedere uno spettacolo adeguato al costo del biglietto alla maglia che si indossa e alle aspettative che si avevano questo è anche rispetto per i tifosi quindi se vogliamo parlare di rispetto per i tifosi andiamo fino in fondo perché credo che sia la parte più importante in questo momento un tifoso che si ritrova in corso della stagione penalizzato di 15 punti con la società che si sta difendendo sì in campo ma poi si ritrova continuamente fortemente attaccata sui giornali con la società che non parla con la società che non dice niente persone che possono permettersi anche ai giornalisti che il patentino andrebbe strappato fare le azioni la serie B la fake news degli abbonamenti della serie B rimborsati al 30% che non è la fake news perché c'è scritto ma perché c'è sempre stata scritta una roba del genere ci sono delle cose che vogliono destabilizzare l'ambiente alla fine chi paga è il tifoso alla fine paga il tifoso sempre e comunque paga il tifoso perché andare allo stadio paga il tifoso a guardare la televisione la PTV paga il tifoso comparare la maglietta di Ventus paga il tifoso allora bisogna avere rispetto per il tifoso perché il tifoso è cliente a tutti gli effetti della squadra cliente cliente e se l'altro giorno col Napoli mi sono ritrovato un biglietto in tribuna perché volevo andarmi a vedere la partita a 420 euro 420 euro in cui aggiungiamo la benzina o il treno per raggiungere Torino io ho 4 ore di macchina ad andare 4 a tornare 4 e mezza anche quindi o dormo là o mi prendo anche l'hotel se vado in treno mi prendo anche l'hotel mangio bevo entro cosa spendo 1000 euro di biglietto spendo 1000 euro per andarmi a vedere 90 minuti di Juventus allora se spendo 1000 euro per andarmi a vedere la Juventus come ne ho spesi non mi ricordo quanti per andare a Parigi come ne ho sempre spesi perché mi sono fatto due anni di abbonamento allo stadio mi sono andato a vedere la finale di Champions a Berlino mi sono andato a vedere il ritorno col Barcellona dopo che abbiamo vinto 3 a 0 l'andata allora e parlo di me la mia esperienza personale quanti di voi potrebbero parlare della loro esperienza ieri vedevo che Lello ha comprato i biglietti per andare a Siviglia bravissimo meraviglioso meraviglioso Lello facciamogli un applauso cazzo io in questo momento non c'ho la forza non c'ho la forza non c'ho la forza proprio perché quel rispetto lì io non lo vedo nel tifoso oggi oggi non lo vedo quel rispetto nel tifoso allora se parliamo di rispetto per i tifosi parliamolo in maniera seria parliamolo in maniera adeguata perché non è una cosa da poco è la cosa principale è la cosa primaria questa qui io posso solamente mettere la grande professionalità e onestà e grande impegno nel rispetto della Juventus poi le difficoltà nella vita ci sono dobbiamo uscire da questa cosa tornare a vincere una partita di calcio poi a fine stagione se il lavoro a parte la società non è stato soddisfacente prenderanno decisioni come giusto che sia perché l'allenatore è responsabile di tutto mi sembrano cose normali fa parte della vita del gioco è così non vedo eppure stiamo continuando a leggere in questi giorni perché i giornalisti dicono chiamiamo Juventus le fonti dentro di Juventus ci dicono avanti con Allegri e secondo me torno a dire bugia bella e buona grossa grossissima allora l'allenatore non è responsabile di tutto cioè è stato soddisfacente allora è giusto e magari se la società ha richiamato Allegri perché la società non ritiene soddisfacente Allegri non è che può fare il teatrino in conferenza dire blocco unico granitico tutti insieme perché è una cosa normale l'ha detto Allegri stesso però forse è una cosa normale finché non ti tocca personalmente io credo che sia necessario saper vincere e credo che Allegri abbia dimostrato di saper vincere tranne appunto in alcuni momenti delle ultime stagioni dove andava a fare delle frecciatine nella conferenza stampa d'addio dove io dico ragazzi qui c'è Sarri è perché lì sono state tirate una marea di frecciatine a Sarri quindi come si è saputo vincere non sempre non in maniera impeccabile fino all'ultimo non sappiamo perdere non abbiamo saputo perdere in questi due anni proprio no proprio no bisogna saper vincere e saper perdere allora forse non è una cosa così normale che fa parte della vita del gioco perché sennò non ci si arrabbierebbe in conferenza stampa non si andrebbe a fare delle robe del genere poi Allegri dice mi fai una domanda sono soddisfatto sono soddisfatto vincendo il campionato Champions Coppa Italia ma questo è impossibile sennò devo tornare a conferenza di Giannis l'altra sera ci sono degli obiettivi allora vuol dire che non sei soddisfatto allora vuol dire che anche l'allenatore della Juventus non è soddisfatto e meno male aggiungo io che l'allenatore della Juventus non è soddisfatto meno male ma sono contento che l'allenatore della Juventus non sia soddisfatto allora perché mi si parla che ci sono due obiettivi importanti come arrivare nelle prime quattro e vincere l'Europa League se l'allenatore della Juventus non è soddisfatto e se non era soddisfatto neanche quando vinceva il campionato perché non vinceva la Champions queste cazzo sono le cose che voglio sentire da tifoso della Juventus queste sono cose per rispetto ai tifosi non che abbiamo fatto una gran partita l'altra sera non quello non che arrivare nei primi quattro il primo mani obiettivo stagionale quando arrivi alla fine della stagione perché non sei riuscito a prendere gli altri queste sono le cose che voglio sentire allora se mi dici che non sei soddisfatto forse la domanda che Allegri ha etichettato come poco intelligente e che Fabiana giustamente ha rispinto al mittente dicendo questo è un tuo pensiero forse non era così così stupida forse non era così poco intelligente forse è una domanda molto intelligente alla quale Allegri non aveva nemmeno mai risposto e oggi per la prima volta ha risposto dicendo non sono soddisfatto allora non prendiamoci in giro non prendiamo in giro la stampa non prendiamo in giro i tifosi non prendiamo in giro chiunque dicendo che eh ma se arrivi nei primi quattro no allora mi dici no non sono soddisfatto che problema c'è a dirlo perché dobbiamo nasconderlo perché dobbiamo mascherarlo forse perché poi allora questo potrebbe essere usato contro di noi in un giudizio finale ah però allora cambia tutto eh però allora cambia tutto dobbiamo dire le cose come stanno perché questa conferenza stampa secondo me è stata da una parte piena di spunti di riflessione siamo a 53 minuti non ce la faccio neanche più a parlare l'altra è stata un bruttissimo spettacolo eh per essere un tesserato l'eventus un allenatore della juventus bruttissimo spettacolo questo bruttissimo e allora sempre in quel video con Fabiano e Romeo Romeo diceva l'egri è sempre stato equilibrato si inizia a perdere l'equilibrio la conferenza di stampa di oggi ragazzi è è clamorosa eh qua l'equilibrio proprio non c'è poi l'egri dice e tu sei soddisfatta del lavoro che stai facendo se l'anno prossimo ti ritrovo qui a fare domande te lo domando se l'anno prossimo ti ritrovo qui significa che hai fallito nel tuo lavoro io non mi giudico da solo io vengo giudicato dagli altri e allora perché se gli altri ti giudicano poi arriviamo a questo punto e l'egri poi dice ora non te lo posso dire mancano 35 giorni e abbiamo due cose in ballo però allora perché mi hai detto sono soddisfatto vincendo il campionato Champions Coppa Italia adesso mi dici che non puoi dirmelo prima mi hai detto che saresti soddisfatto soltanto in quel caso cioè ma capite che non tornano ma capite che non si incasi l'egri in questo momento è in palese difficoltà palese palesissima io credo che sia anche normale credo che sia anche un comportamento umano però l'egri oggi deve andare in conferenza stampa prima bevendo una camomilla poi facendo due tre respironi e poi giocando a poker giocando a poker una poker face incredibile sì no bo forse e se stimolato come da parte di Fabiana dire semplicemente te lo dico tra 35 giorni l'ambiente in questo momento è sovraccaricato da situazioni negative e questa conferenza stampa non fa altro che buttare benzina sul fuoco prima era una fiammella poi l'incendio adesso stiamo passando sopra con gli aeroplani invece che buttare l'acqua per spegnere l'incendio ci stiamo buttando della benzina è divampato io vi dico domani non si vince a Bologna domani non si vince a Bologna tu mi dissi non si vince col Maccabi e mi dissero no ma vedrai che col Maccabi ero sicuro quando l'ambiente vive questi momenti qua con l'allenatore che vive questi momenti qua le partite non si vincono spero di essere smentito ma domani a Bologna non si vince domani a Bologna non si vince perché la situazione è troppo è troppo pesante la situazione è troppo pesante alla fine dell'anno mi sembra una cosa normale dice Allegri il Napoli ha vinto lo Scudetto c'è una che vince la Champions c'è una che vince l'Orbanic c'è una che vince la Coppa Italia all'interno di queste cinque che sono quattro ma vabbè tutte le altre hanno fallito Fabiana dice no ho parlato di fallimento però Allegri torniamo alla cosa di prima allora sulla panchina del Cagliari quando hai fatto quelle cinque sconfitte di fila e poi invece sei riuscito a riprendere mano la squadra hai vinto pure la panchina d'oro perché Allegri a Cagliari vince la panchina d'oro e ti salvi fai stagioni buone col Cagliari ma hai fallito perché non hai vinto lo Scudetto la Coppa Italia così? no hai fatto un ottimo lavoro perché il Cagliari parte con delle ambizioni che sono la salvezza magari arrivare a metà classifica e robe del genere cioè impariamo a mettere dei contesti impariamo a contestualizzare anche in relazione a quelli che erano all'inizio dell'anno gli obiettivi perché se no facciamo la figura dei burattini facciamo la figura dei burattini mossi dall'alto facciamo la figura dei girasoli siamo dei girasoli se parliamo così siamo dei girasoli che a seconda di dove va il sole facciamo così e non bisogna aver paura di dire ho sbagliato ho fallito ho lavorato male ho pensato male io quando è arrivato Allegri sulla panchina di live quando è tornato io lo dico tranquillamente pensavo perlomeno di giocarmi lo Scudetto e magari arrivare pure a vincerlo pensavo di passare un ottavo di Champions a maggior ragione col Villareal quest'anno col mercato che era stato fatto immaginavo almeno di provare a lottare per lo Scudetto quest'anno non mi immaginavo di vincerlo però di arrivare lì una lotta fino alle ultime dieci partite di metterlo di passare il giro nei Champions io queste cose le pensavo e ora sono coglione perché vi dico che le pensavo e non sono andate così no sono semplicemente onesto con me stesso in primis e con voi che mi guardate e mi ascoltate dall'altra parte se fosse venuto qui oggi a dirvi eh ma io ve l'ho sempre detto da quando è tornato Allegri che non saremmo andati in lotta a Scudetto non saremmo andati in lotta per passare il giro nei Champions mi direste semplicemente Luca ma che cazzo dici hai sempre detto il contrario non sei coerente e avreste avuto ragione io ve lo dico tranquillamente pensavo queste cose non sono andate così bene ho sbagliato perché poi il campo ha detto un'altra roba io non capisco perché Allegri non abbia questo principio c'è questo orgoglio porca vacca che gli impedisce di dire certe cose ma è tanto difficile dire cazzo mi aspettavo tutt'altro non abbia lavorato bene cazzo ho sbagliato cercherò di trarre un insegnamento da questa cosa santo il Signore che difficile e soprattutto che nervoso perché poi viene si viene a parlare di rispetto per i tifosi quella è la cosa che mi ha triggerato più di tutte ve lo giuro in tutta la conferenza quella è la cosa che mi ha triggerato più di tutte perché allora facciamo la figura tutti dei coglioni tutti dei coglioni siamo tutti dei coglioni e facciamo prima riassumiamola così io sono sereno è divertente questa cosa per quello che scrivete voi un po' meno altro attacco di Allegri Fabiana della Valle comunque vediamo 35 giorni se sarà che non abbiamo vinto nulla allora Allegri è scarso deve smettere tanto è quello ma come prima mi parlavi che non sei soddisfatto adesso tra 35 giorni vediamo e se poi non vinciamo comunque l'Europa League io sono convinto sicuro che non arriveremo a dire abbiamo sbagliato abbiamo fallito però dai siamo arrivati nelle prime 4 se non arriveremo nelle prime 4 è però almeno 15 perché sono sicuro ormai sono sicuro l'andasso è questo oggi è la pietra tombale oggi è la pietra tombale di Allegri io non credo che ci possano più essere prospettive di analizziamo in totale serenità dice Allegri l'anno scorso a me non è sembrato di sentire che la stagione è stata fallimentare da parte di Allegri noi l'abbiamo detto qui l'abbiamo detto l'abbiamo analizzato nonostante avevamo delle altre idee inizio anno perché perché forse c'è libertà e secondo me più che altro rispetto di parola che non vedo dappertutto io credo che quello che bisogna fare sia tornare a vincere la partita domani il resto non conta niente e poi niente è finito lo show tra virgolette perché poi ci sono altre due domande dice lo sappiamo tutti che abbiamo avuto un approccio sbagliato e dormiente abbiamo sbagliato prendendo gol siamo riusciti a fare una partita non semplice non l'abbiamo fatta però va bene dovevamo essere più incisivi in fase offensiva no bisognava semplicemente provare almeno una volta a tirare davvero in porta e poi ecco qui un'altra roba che mi ha triggerato malissimo dice pensate nella partita in cui abbiamo vinto con l'Inter abbiamo avuto poco possesso palla l'altro giorno abbiamo avuto il 61% di possesso palla è stato il 59% ma va bene così quindi anche quei dati a cosa servono se non ti rimporta neanche una volta Allegri dice le partite alla loro evoluzione una singola una storia singola per partita noi abbiamo sbagliato approccio questo sì io mi rifiuto io mi rifiuto mi rifiuto di pensare che l'allenatore in Serie A ecco il palmarès di Allegri possa venirmi a dire una roba del genere conferenza stampa in relazione a quella partita abbiamo avuto il 59% il 61% di possesso palla ma scusatemi in francese ve lo dico ma chi cazzo se ne frega più spontaneo di così non ve lo so dire ma chi cazzo se ne frega questa è una cosa che Allegri dice lo dice anche con una faccia tutta arruffata per far vedere che perché in questo momento qui non sa più da dove prendere non sa più da dove prendere è completamente in caos ha perso lucidità sotto ogni punto di vista perché un allenatore con l'esperienza di Allegri una roba del genere non la può dire mai nella vita e se la pensa davvero è gravissimo perché guarda mi gioco ancora il jolly di dire la dice perché è poco lucido ma se pensa a una roba del genere davvero è gravissima perché chi se ne vuole può fare anche il 99% del possesso palla e loro l'1% poi perdi una 0 perché tu te la sei girata nella tua area di rigore tutto il tempo e loro su un calcio angolo hanno fatto gol che hai perso ed è giusto che tu abbia perso perché loro hanno sfruttato l'unica occasione perché tu non sei mai riuscito ad essere incisivo io lo ripeterò sempre continuano a dirmi eh ma questo questo catenaccio questa difesa contro piede di Allegri no ragazzi noi non facciamo difesa contro piede noi facciamo difese basta perché facessimo anche contro piede facessimo il 10% su 100 quindi 90 loro 10 noi di possesso ma quel 10% ci fiondiamo dopo aver difeso bassi e staltici tutta la partita verso la porta degli avversari oh firmo un contratto adesso datemi datemi lo firmo firmo in bianco non lo facciamo non facciamo neanche quello quindi ditemi che cazzo di senso ha parlare del possesso palla di Inter Juventus quando non sei sceso in campo contro una squadra che va in finale meritatamente e che non ha fatto niente tra andate e ritorno perché tu hai fatto peggio che senso ha parlare del possesso palla che senso ha parlare del possesso palla e poi dice per concludere domani è una partita molto difficile abbiamo 7 partite per fare tot punti e rimanere nelle prime 4 io credo che con 73 punti sei dentro credo vedendo il calendario anche qui si contraddice perché dice è normale che domani bisogna cercare di vincere la prima e non è facile serve una squadra più compatta aggressiva e lucida serve rispettare il Bologna che sta facendo un'ottima stagione e ha buoni calciatori non c'è una partita facile ma difficile uno magari può avere un'idea poi sul campo diversa perché bisogna giocarle sul campo e tante volte quello che succede in campo non è quello che succede dentro la partita per fare questo serve una partita di grande attenzione cioè parliamo di di pronostici cioè questa è una cazzata eh a confronto a tutto quello che però tanto siamo qui abbiamo fatto 30 facciamo 31 parliamo di pronostici e dei pronostici che possono essere giusti sbagliati facili difficili ma le partite sono difficili e poi parla al campo che è giustissimo meno male che il calcio è così che se no sarebbe testo o croce però poi facciamo facciamo la griglia diciamo con 73 siamo dentro visto il calendario il che significa che abbiamo fatto dei pronostici sia per la Juve che per gli altri tutto questo è meraviglioso eh ripeto è una cazzata è un'inezia ma conclude perfettamente il cerchio della conferenza stampa ridicola per lo spettacolo che è stato dimostrato per le dichiarazioni che ci sono state e per il momento dato che la Juventus non serviva assolutamente una roba del genere a parte la natura in conferenza perché domani si gioca una partita e ripeto con sto mood sono abbastanza convinto che non si vincerà beh questa roba non serviva assolutamente la cosa più lontana alle esigenze della Juventus possibili signori siamo a un'ora e quattro minuti io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto io non ci credo che possiate essere arrivati fino a questo punto eppure qualcuno sicuramente ci è arrivato quindi se siete arrivati fino a questo punto scrivetemi nei commenti 13 e 50 che è l'orario in cui ho finito di registrare questo video e poi articolate il commento con tutto quello che avete da dirmi io vi ringrazio e a questo punto salta il video di oggi pomeriggio ve ne lascio uno dato che vale per 5 e noi ci vediamo direttamente domani per cercare di analizzare una partita che purtroppo secondo me non andrà come dovrebbe un abbraccio dai supereremo anche questo momento molto molto difficile fatemi sapere se siete d'accordo oppure no con tutto quello che vi ho detto in un'ora e 5 minuti di registrato madonna